Il tempo stringe, bisogna che i consigli comunali che non l'hanno ancora fatto approvino subito gli statuti della nuova società consortile. Non c'è più un attimo da perdere perché rischiamo che la gestione commissariale di Girgenti Acque prima o poi alzi bandiera bianca e fallisca. E questa è l'opinione di Franco Zammuto, portavoce di Intercopa, il quale ammette di comprendere disagi dei sindaci per una soluzione. La società consortile che richiederà una grossa assunzione di responsabilità e Zammuto spiega il motivo. Perché questo significa avere in bilancio anche la situazione della quota parte di ciascun comune rispetto anche all'acqua, così come avviene per la spazzatura. Poi Zammuto chiarisce che non è vero che non ci sono privati in grado di gestire le acque, solo che non ce ne sono in Sicilia. Noi avevamo già il Girgenti Acque che si era costituita ad hoc per questa situazione non avendo il know-how. Oltre lei non ce ne è altre, per cui sperare che venga un imprenditore del Nord come ce ne sono di efficienti è una cosa che non sta oggi né in cielo né in terra. Quella dei privati non è assolutamente conveniente. Prima perché abbiamo avuto l'esperienza dalla quale abbiamo dovuto scegliere di uscire per la semplice ragione che era assolutamente fallimentare. E oggi ne paghiamo il prezzo perché anche i commissari cominciano a lamentare questa situazione di totale fallimento per cui vogliono anche loro liberarsene. Ma noi oltretutto i cittadini, soprattutto i comitati, abbiamo fatto pressione perché vogliamo che il responsabile sia facilmente individuabile e anche contestabile. Se è pubblica le amministrazioni si devono impegnare a fare in modo che quello funzioni e non possiamo sempre decidere di affidarci al privato lì dove il privato non ha funzionato per risolvere il problema. Zammuto fa notare ancora come il comune di Sciacca debba dimostrare un approccio più deciso nei confronti del problema dell'approvazione dello statuto della nuova società consortile. Noi abbiamo il sindaco che è il presidente dell'ATI, in quanto città che ha il presidente dovremmo avere una maggiore rispetto di quella che è stata la scelta fatta e soprattutto essere d'esempio a tutti gli altri comuni. Pensiamo che questo ritardo di Sciacca non è solo di Sciacca, un ritardo determinato oltre che dalla lentezza burocratica e amministrativa che ci contraddistingue, purtroppo anche dal fatto che non sono convinti di doversi assumere domani l'onere della responsabilità della gestione. I comuni devono purtroppo provvedere con i bilanci e devono soprattutto dotarsi delle risorse per poter partire. Quello sicuramente è un problema, ma sarebbe un problema comunque domani qualora i problemi sorgessero con un'altra società. Anzi, sarebbero ancora più gravi perché non avremmo la possibilità di gestirle in proprio quel senso di responsabilità che deve investire la cosa pubblica. E in questa fase Gigi Entiacque non garantisce più le manutenzioni. Questo è il rischio, il rischio grave, cioè che i commissari debbano abbandonare la situazione perché non hanno più risorse. Quindi questa è una ragione per cui si dovrebbe accelerare. Infine, sugli otto comuni che si sono visti riconoscere il diritto a gestire direttamente l'acqua, Zammuto ribadisce un'opinione che in lui non è cambiata. La questione dell'acqua ormai è un problema che prima o poi ci scenderà addosso, che avremo addosso. Questo dei piccoli comuni è qualcosa ormai di anacronistico. Pensare che in house tu possa gestirla vita naturale durante, probabilmente risolvi il problema e fai gli interessi dei tuoi cittadini per un corso di anni, probabilmente che magari ti premierà in quel periodo. Ma domani potresti avere i grossi problemi che oggi il problema dell'acqua pone. Il problema è che se quelle sacche di acqua, questa possibilità di attingere dove attingono, se domani non dovesse veramente ridursi quella portata, loro chiederebbero soccorso a chi?